Siamo i Dolci Gattini! Io lo sono di più! Mi-wow! Piccoli archeologi I Dolci Gattini e Brusca stavano guardando una trasmissione sull'archeologia scavare nel passato Tanto tempo fa alcune tribù di uomini primitivi vivevano proprio qui Guardate! In questa terra sono sepolte cose interessanti che risalgono al passato Lei ci lavora da solo su questo sito? Purtroppo sì! Non ci sono molti gatti che vogliono fare gli archeologi I gatti di oggi non hanno pazienza e preferiscono solo guardare la tv Mi dispiace per quel povero archeologo Non credete che dovremmo andare ad aiutarlo a cercare cose antiche? Sì, sarà un po' come cercare un tesoro perduto Ci divertiremo un sacco! Questa non me la perdo! Potrei trovare qualcosa di prezioso! Allora siamo d'accordo! Andiamo a scavare come dei veri archeologi! Fantastico! Beh, buona fortuna tesoro mio! Sembra che questo weekend ti aspetti un programma divertente! Il mattino dopo il papà diede ai gattini dei cappelli speciali e li accompagnò al sito archeologico Qui c'è tantissima terra da scavare! Mi sa che siamo arrivati troppo presto! Forse l'archeologo sta ancora dormendo! In realtà non mi sono neanche coricato! Buongiorno, giovanotti! Che cosa posso fare per voi? Buongiorno, signore! Questi giovani gattini vorrebbero diventare archeologi e sono venuti qui ad aiutarlo a scovare oggetti antichi! Ma che idea meravigliosa! Siete pronti a lavorare duramente e ad essere molto, molto pazienti? Allora potete iniziare dall'otto tre! Lì non ho ancora eseguito nessuno scavo! Fantastico! Vada pure, giovanotto! E buona fortuna! I gattini scavarono con pazienza per molto tempo ma non trovarono niente Scommetto che qui non ci ha vissuto nessuna tribù antica e che non c'è nemmeno un tesoro da cercare! Magari hai ragione tu! Chi può dirlo? Il vecchio archeologo sa che qui sotto c'è qualcosa non lavorerebbe con tanto impegno se non ci fosse niente! Proviamo a scavare in posti diversi uno di noi sicuramente troverà qualche tesoro! Questa volta i gattini trovarono un sacco di cose ma nessuna si rivelò un reperto antico Avevo ragione! Qui non c'è proprio niente di prezioso! Dobbiamo soltanto avere un po' di pazienza come i veri archeologi! Non mi va più di scavare! Voglio fare un pisolino! Perché lo scaviamo a turni? Così non ci stancheremo tutti insieme! No! Non intendo continuare a scavare! Voglio tornare a casa! Io sono sfinito! Vado con lei! È noioso scavare la terra! A quanto pare è ora di riprendere la strada di casa! Siamo tutti stanchi! Ma noi siamo archeologi avanti! Dov'è la vostra pazienza? È già finita! Beh, a me ne rimane parecchia e non ho alcuna intenzione di arrendermi! Oh! Forse hai trovato qualcosa di interessante! Che cos'è? Continuate a scavare! Ci siete quasi! Oh! Deve essere un reperto molto antico, giusto? Fammi vedere cosa hai portato alla luce! Per bacco! Questo è sicuramente un vaso di un'antica tribù! È di una bellezza sconvolgente! Avete fatto una scoperta importante, miei giovani archeologi? Fantastico! Mi-wow, 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 mi-wow! Grazie ai gattini e al papà, ma soprattutto grazie alla pazienza di chicca, il museo locale poteva esporre un nuovo reperto antico! La corsa di macchinine Un giorno i gattini portarono le macchinine telecomandate al parco! La macchina numero uno schizza in testa al gruppo aggirando tutti gli ostacoli! Sapete una cosa? Dovremmo costruirci una pista tutta per noi qui al parco! Così potremo fare una corsa! Fantastico! Mi-wow, 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 mi-wow! Però anch'io voglio partecipare alla corsa! Almeno sai come si guidano queste macchinine! No, ma vorrei imparare! Mi fai fare una prova? Eh, dai, facciamola provare! Questo comando fa avanzare la macchinina e questo pulsante la fa andare indietro! Per farla sterzare devi girare questa rotellina! Ah, sembra abbastanza facile! Non da quella parte! Fermo! Fammi provare la retromarcia! Ok, inizio a prenderci la mano! Ma dove stai andando? Fai marcia indietro! Sbrigati! Ci hai provato! Ma ora basta! Ridammi i comandi! Lo sanno tutti che le femmine non sono brave a guidare! Già, non sono abbastanza veloci! Però le femmine sono bravissime a spingere i passeggini! Ed è già qualcosa! Qui possiamo metterci una bella curva a gomito! E qui è una rampa altissima! Dimostrerà a quegli antipatici che le femmine sono brave alla guida tanto quanto i maschi! Kik ha trovò il telecomando che faceva funzionare il suo pesce robot! Perfetto! E adesso devo fare soltanto un po' di pratica! Ti ringrazio, papà! Mi sa che questi qui sono di papà! Aia! E dai! Non da quella parte! Aspetta un momento! Vieni qui! Ho detto aspetta! Fermati! Sì! Oh! Sai, mamma! Mi sa che a guidare i maschi sono davvero più bravi delle femmine! Cosa, o cielo? Ma non è affatto vero! Guidare veloce non significa guidare bene! Quando torno a casa in auto dal supermercato cerco di evitare tutte le buche e tutti i dossi sterzando dolcemente perché non voglio che la spesa esca dai sacchetti! Mi è venuta in mente una grande idea! Kikka guidò il suo pesce robot con molta attenzione per non far cadere la sua bambola! È tutto pronto per la corsa! È quello che cos'è? Una sardina mobile! Kikka è la guida di una sardina! Avanti, Kikka! Facci vedere come batti velocemente le pinne! Ok, piloti! Avviate i motori! Ok, piloti! avete visto? non ci posso credere il pesce ha tagliato il traguardo per primo già, è stato anche l'unico a tagliarlo quindi Chica ha vinto e noi abbiamo perso beh, allora anche le femmine possono essere bravi a guidare visto che io ho vinto la corsa voi maschi dovrete spingere la mia carrozzina però andate piano, mi raccomando a quanto sembra, per vincere una corsa piccola o grande che sia non basta correre veloce bisogna anche essere prudenti il caffè di papà un giorno il papà stava preparando una presentazione per un nuovo caffè è per questo motivo che il caffè dolce gatto sarà molto redditizio e offrirà prodotti di qualità insieme a un servizio eccellente tesoro mio, è perfetta sono sicura che i capi della fabbrica approveranno la tua proposta fantastico! mi wow, mi wow, mi wow, mi wow adesso devo proprio andare verifico di aver caricato tutte le slide nel portatile il papà voleva mostrare la presentazione sul suo portatile ciao a tutti! chissà se ai capi della fabbrica piacerà la presentazione che papà ha preparato sarà meglio che chiami in ufficio per avvertire che arriverò in ritardo oh cielo, ho dimenticato il cellulare a casa la mamma stava lavorando alla sua nuova collezione papà ha dimenticato di prendere il cellulare il nonno sta cercando di chiamarlo sì, pronto? non sei mio figlio? no, mi dispiace è andato al lavoro e ha dimenticato il cellulare qui a casa va bene, allora proverò a chiamarlo più tardi ciao! perfetto, ciao! per favore, gattini mettete il cellulare sulla scrivania di papà è probabile che torni a prenderlo mamma! mamma! c'è una chiamata sconosciuta per papà sì, pronto? buongiorno, è lo studio del dentista Righino? no, mi spiace temo abbia digitato il numero sbagliato sarà meglio abbassare la suoneria rimettete il cellulare sulla scrivania di papà poi sarà lui a controllare tutte le chiamate guardate, c'è una chiamata da parte dell'ufficio di papà pronto? buongiorno pronto? dove sei? i capi della fabbrica sono già tutti in sala riunioni stiamo aspettando solo te pronto? riesci a sentirmi? pronto? sì, io ti sento sono Chicca e sono qui a casa con Cook e Budino papà è andato al lavoro ma ha dimenticato il cellulare a casa ho capito va bene, vorrà dire che dovremo annullare la presentazione ma papà ci ha lavorato un sacco e ci tiene tantissimo e l'ha anche provata tante volte davanti a noi anche noi vorremmo vedere la presentazione di vostro padre ma adesso... mi è venuta una bellissima idea noi tre potremmo fare la presentazione di papà al posto suo i gattini accesero la videocamera del cellulare riuscite a vederci tutti? possiamo cominciare con la presentazione? sì, certo, potete anche iniziare ok, grazie e caffè del nostro papà sarà piccolo e accogliente l'esterno sarà dipinto di giallo e arancione su tutte le tazzine e i piattini sarà stampata la zampa di un gatto come nell'insegna sulla porta d'ingresso ci saranno tanti tavolini rotondi e le vetrine saranno piene di dolci e pasticcini e poi ci sarà anche tanta frutta fresca che ognuno potrà aggiungere al proprio dolce i camerieri indosseranno una bella divisa e porteranno un cappellino che assomiglia a un pasticcino inoltre ci saranno anche... proprio per questo il caffè sarà il posto più bello in cui passare del tempo con la famiglia scusatemi tanto, sono rimasto bloccato nel traffico e per di più ho dimenticato il cellulare a casa ciao gattini ciao papà questi meravigliosi e intraprendenti gattini hanno appena fatto la presentazione al posto tuo ottimo lavoro davvero, bravi gattini miei, grazie siamo lieti di comunicarti che il progetto è approvato resta da decidere solo una cosa come si chiamerà il caffè? beh, c'è soltanto un nome che mi viene in mente il caffè dovrebbe chiamarsi dai dolci gattini l'idea dei gattini di aiutare il papà si rivelò vincente di lì a poco nel paesino sarebbe sorto un nuovo e grazioso caffè forza di volontà un giorno il papà preparò dei muffin deliziosi c'è profumo di dolce nell'aria abbiate pazienza, i muffin si devono raffreddare un po' potrete mangiarne uno dopo cena quando saranno freddi dopo cena? ma mancano secoli e secoli all'ora di cena mi basterà usare semplicemente un po' di forza di volontà forza di volontà? e che cos'è? la forza di volontà ci aiuta a mantenere un impegno che abbiamo preso anche se è una cosa difficile che non ci va di portare a termine come non mangiare i muffin prima di cena oh mangiandoli ora vi rovinerete l'appetito oh facciamo finta che sia un gioco i gattini che riusciranno a non mangiare i muffin prima di cena riceveranno un bel premio un premio fantastico! mi wow! mi wow! mi wow! mi wow! allora affare fatto, gattini! quanto vorrei assaggiare solo uno di quei deliziosi muffin hanno un profumo troppo buono cookie, devi usare la tua forza di volontà perché non giochi a scacchi con budino? così terrai lontano il pensiero dei muffin oppure puoi prendere il tuo robot e giocare un po' insieme a chicca aspettate qui, io torno subito ah, sarà meglio che porti questi muffin in cucina così evitiamo ogni tentazione cookie, fermo! mi è venuta una bellissima idea dovremmo andare tutti e tre a giocare al parco almeno lì non ci sono i muffin ehi amici, guardate, ho una sorpresa mia mamma ha appena preparato dei bellissimi e deliziosi muffin avanti, prendetele uno no, cookie, fermati! cerca di usare la forza di volontà e ricorda la promessa che abbiamo fatto alla mamma non dobbiamo mangiare i muffin prima di cena sì, lo so, ma questi non sono i muffin che abbiamo a casa ma se li mangi adesso, quando sarà ora di cena, non avrai più fame devi solo metterci la forza di volontà vieni, ti riporto a casa ciao muffin, deliziosi muffin forse cookie ha davvero fame e deve mangiare prendiamogli una banana o un succo di frutta guardate quanto sembrano soffici è vero, e hanno anche un aspetto super squisito cookie, dammi subito i muffin cookie, dai a me oh no ma cookie, te li sei mangiati tutti si può sapere dove sono i muffin? devo supporre che non abbiate seguito le regole del gioco ci abbiamo provato, ma con tutta la nostra buona volontà ma quanto pare alla fine non abbiamo saputo resistere nessuno di noi tre ha mangiato i muffin perciò abbiamo vinto oh davvero? pensavamo li avessi mangiati tutti è da stamane che sogno di mangiare questi muffin ma quando mi sono reso conto che anche voi li volevate ho deciso di nasconderli per aiutarvi a resistere ho capito una cosa fantastica dobbiamo aiutarci a vicenda e restare uniti davanti alle difficoltà perché insieme possiamo fare ogni cosa hai proprio ragione chicca e visto che siete stati così bravi a mantenere la promessa vi siete meritati dei premi eccezionali ho cucito queste belle magliette così ognuno di voi ricorderà sempre di avere una straordinaria forza di volontà fantastico! mi wow! mi wow! mi wow! mi waw! mi wow! troppo forte! troppo forte! mi piacerebbe fare questo esperimento e mettere alla prova la mia forza di volontà si piacerebbe anche a me ok lo faremo ma prima giochiamo a chiapparello bella idea così ci verrà ancora più fame e così i gattini impararono cos'è la forza di volontà e come sia più facile mantenere un impegno con l'aiuto di chi ci sta vicino il ristorante un giorno la mamma e il papà portarono i gattini al ristorante per festeggiare il loro anniversario di matrimonio buonasera signori buonasera a voi stasera festeggeremo con il nostro piatto preferito e in questo ristorante servono la torta alla zucca più buona del paese fantastico! mi hua! mi hua! mi hua! shh! parlate piano e comportatevi bene siamo in un ristorante raffinato buonasera e benvenuti buonasera a Gallaia buonasera signore se volete seguirmi vi accompagno al tavolo è questo wow! una foto del vostro matrimonio voi due eravate proprio belli a quei tempi quindi adesso non lo siamo più? ma no! siete belli come quando vi siete sposati mi scusi noi sappiamo già che cosa ordinare potrebbe portarci la specialità della casa? la vostra deliziosa torta alla zucca? certamente uffa! questa serata è davvero una noia è così che si festeggiano gli anniversari di matrimonio io mi aspettavo una cosa divertente dove sono i fuochi di artificio e i palloncini? e perché non piovono petali di rosa dal soffitto? e dov'è lo striscione di auguri portato dalle colombe? ma che festa è senza le decorazioni? proviamo a pensare a come rendere il loro anniversario ancora più bello potremmo chiedere al pianista di suonare una canzone che i nostri genitori adorano potremmo chiedere al cameriere di accendere delle candele romantiche quando ci porta la torta è un'idea grandiosa, Cookie! e io so cosa potremmo usare al posto dei petali di rosa dei pezzettini di tovaglioli fantastico! allora diamo inizio all'operazione festeggiamenti! mamma! papà! possiamo andare in bagno a lavarci le zampine? certo, gattini! ma state attenti! i gattini fecero del loro meglio per rendere speciale l'anniversario dei genitori Budino prese accordi con il pianista Cookie fece lo stesso con il cameriere e Chicca si procurò i tovaglioli ho pensato di spegnere le luci della sala così le candele renderanno tutto più romantico ora dobbiamo solo aspettare che esca il cameriere con la nostra torta alla zucca guardate, sta arrivando! forza, ci siamo mi dispiace tanto, signora signor cameriere prima di servirci la torta avrebbe dovuto accendere le candele veramente, quella torta non era per voi era per il signore seduto a quel tavolo il vostro ordine arriva adesso oh no! volevamo che fosse una festa perfetta per mamma e papà invece abbiamo rovinato ogni casa beh, avete fatto del vostro meglio e per noi questo conta più di tutto ad ogni modo sarà meglio tornare a casa mi dispiace molto per tutta questa confusione quanto a lei la prego di accettare la nostra torta con le nostre scuse oh, non c'è nessun problema avete un'occasione speciale da festeggiare dico bene? è giusto che portiate a casa voi la torta mi è venuta una bellissima idea benvenuti al ristorante dei dolci gattini le fantastic se permettetevi consiglio di ordinare la specialità della casa torta alla zucca buon appetito buon anniversario mia meravigliosa mogliettina buon anniversario amore tanti auguri mamma e papà mi wow mi wow mi wow mi wow i gattini organizzarono una bella cena di anniversario come in un vero e proprio ristorante per la mamma e il papà fu una serata meravigliosa e molto commovente le cose vecchie un giorno la mamma e il papà decisero di liberarsi di tutte le cose rotte in casa che sta succedendo? dobbiamo forse fare un trasloco? stiamo buttando via tutte le cose vecchie e rotte che non ci servono più già le porteremo tutte quante alla discarica oh perché è quello il loro posto gattini se avete giocattoli che non usate più aggiungeteli pure al mucchio liberando la cameretta avrete più spazio per giocare fantastico! mi wow mi wow mi wow mi wow i gattini passarono in rassegna la scatola dei giochi una locomotiva senza ruote io non ci giocherò più non ci giocherò neanch'io no neanch'io primo gioco da buttare e che ne facciamo di questo sonaglino io non lo uso a me non serve a me piacerebbe tenerlo vorrei farci giocare la mia bambolina allora lo teniamo che altro c'è? guardate cosa ho trovato sul fondo ah è il mio vecchio triciclo l'ho usato tanto quando era un micetto siamo cresciuti e non serve più a nessuno di noi tre quindi andrà alla discarica no un momento il triciclo non si butta un giorno potrebbe venirmi voglia di andarci di nuovo ma che dici Budino? adesso hai la bicicletta si lo so bene è che la bicicletta ha due ruote mentre questo ne ha tre si ma quel triciclo va lento come una lumaca non è vero vuoi vedere come va veloce? Budino decise di andare al parco giochi con il triciclo sei troppo lento quando finalmente arriverai qui sarà già inverno inoltrato ciao gattini ciao amici ciao amici Budino che ci fai su quel leggeggio? pensavo che i tricicli fossero per i micetti no ti sbagli i clown del circo ci vanno sempre e i clown sono super fantastici Budino tu non sei né un micetto piccolo né un clown che bisogno hai di tenere quel vecchio triciclo? beh ecco lo voglio perché sul triciclo è più facile stare in equilibrio e posso andare in giro lentamente godendomi tutte le meraviglie della natura su questo ha ragione allora gattini come procede? avete deciso quali cose buttare via e quali tenere? diciamo di sì papà un momento dov'è Budino? sta cercando di tornare a casa più in fretta che può è sul triciclo che aveva quando era un micetto piccolo Budino che cosa ci fai sul tuo vecchio triciclo? è per i micetti piccoli ormai tu sei un gattino grande sì questo lo so non sto dicendo che mi serva però ricordo che mi piaceva così tanto andarci in giro andavo sull'erba nelle pozzanghere insomma dappertutto come posso gettarlo nell'immondizia dopo tutto il tempo passato insieme? non mi sembra giusto non ti devi preoccupare tesoro mio non abbiamo mai pensato di buttare via il tuo vecchio triciclo dici davvero? visto che non è rotto non va buttato se una cosa non ci serve ma è ancora in buono stato la daremo a qualcuno che potrà farne buon uso mi sembra un'idea meravigliosa guardate questo video ciao gattini miei il triciclo di Budino è andato al vostro cuginetto che lo tratterà con molta cura grazie mio caro fratello e grazie anche a te Budino ringrazio tuo cugino Budino per il triciclo guardate com'è contento si vede che gli piace andare sul triciclo proprio come piaceva a me quando ero un micetto fantastico! i gattini capirono che si possono dare via le cose che non servono più ciò che è vecchio per qualcuno per qualcun altro può essere una novità emozionante la farfalla in una bella giornata di sole i dolci gattini si divertivano al parco giochi nerino sembra un fantasma o qualcosa di simile scusa Budino che stai cercando di catturare? delle farfalle bellissime che non ho mai visto prima d'ora così poi potrò guardarle con calma però quella che spero tanto di prendere è una farfalla arcobaleno fanno le ali colorate come l'arcobaleno deve essere bellissima! mi piacerebbe vedere una di quelle farfalle anche a me ma purtroppo non vivono qui le farfalle arcobaleno si trovano soltanto nei paesi tropicali i dolci gattini tornarono a casa dove gli aspettava una bella sorpresa indovinate gattini! il nonno ci ha spedito una cassa di frutta tropicale! non è meraviglioso? buono l'ananas! oh! c'è anche un bruco! oh ma guardatelo! è davvero un grosso bruco! lo posso tenere mamma per favore? magari diventerà una grande farfalla! e va bene però non lasciare che si arrampichi per tutta la casa io ho paura dei bruchi! te lo prometto mamma! non lo perderò mai di vista! fantastico! mi wow! mi wow! mi wow! mi wow! budino sei sicuro che questo bruco piuttosto bruttino un giorno si trasformerà in una bellissima farfalla? ci puoi scommettere però devo prendermi cura di lui perché ha bisogno di molte attenzioni c'era una volta una farfalla! puoi cambiare canale per favore? sta per cominciare il nostro cartone preferito! voi dovrete aspettare! il nostro bruco vuole guardare questo documentario sulle farfalle! adesso non ti sembra di esagerare? e se quel coso non diventerà una farfalla? invece lo farà! aspettate e vedrete! sono sicuro che ti trasformerà in una delle più belle e colorate farfalle di tutto il mondo! evviva! finalmente è successo! cosa? che è successo? il bruco si è trasformato in farfalla? beh, non ancora ma molto presto lo farà! si è costruito il bozzolo e quando uscirà da lì sarà diventata una farfalla! e se invece di una bella farfalla dal bozzolo uscisse uno scarafaggio bruttissimo? qualcosa tipo uno scarabeo rinoceronte! o magari uscirà un fantastico pipistrello! e se invece ad uscire fuori fosse una bellissima fatina magica? uffa! ora sono un po' preoccupato! incredibile! guardate! è proprio quello che ho sempre sperato! una farfalla arcobaleno! oh caspita! è davvero meravigliosa! dai! facciamola vedere a mamma e papà! oh! ma che bella farfalla! ottimo lavoro gattini miei! ad essere sinceri non è stato merito nostro ma di budino! è vero è stato lui a prendersi cura del bruco! adesso dobbiamo solo farla uscire dal barattolo così potrà volare libera con tutte le altre meravigliose farfalle sue amiche! ogni tanto torna a trovarci farfalla arcobaleno! hai capito? spero che starei bene! arrivederci! miei piccoli tesori per non farvi mai dimenticare la vostra cara farfalla arcobaleno mi ha preparato dei fiocchi speciali! fantastico! mi wow mi wow mi wow mi wow! grazie alle cure di budino è possibile trovare la farfalla arcobaleno nei paesi tropicali e nel giardino dei dolci gattini un'emozionante avventura! un giorno il nonno portò i dolci gattini a passeggiare nel parco oggi gattini vi insegnerò ad essere pronti per un'incredibile ed emozionante avventura! un'emozionante avventura! proverò a spiegarvi come cavarvela nel caso vi trovaste in un luogo selvaggio! bello! vivremo un'emozionante avventura! fantastico! mi wow mi wow mi wow mi wow! immaginate di essere in una foresta buia piena di... avventure! avete visto? siete circondati da una vegetazione fitta e sconosciuta e avete perso il sentiero! ma guardate dove è cresciuto il muschio! vuol dire che il nord è lì! la parte dove non cresce indica il sud! ricordatevi questo particolare e non vi perderete mai! non ci siamo persi! grazie ai cartelli sappiamo dove ci troviamo! se trovate la foglia giusta potete trasformarla in una tazza e usarla per raccogliere l'acqua o cose da mangiare o possiamo comprare un succo o una merendina! giusto! uno spuntino ci starebbe proprio bene adesso! eh no nipotini! prima di mangiare dobbiamo allenarci! avanti! seguitemi! il nonno mostrò ai gattini come riconoscere le bacche che si possono mangiare o come scacciare gli insetti e come costruire un rifugio per ripararsi dalla pioggia e questo è un nodo molto molto utile! non vi deluderà mai! provate! nonno scusa se te lo chiedo ma quando comincia l'emozionante avventura? cosa aspettiamo? noi siamo pronti! pensate di essere pronti? muoviamoci allora! la vedete? quella è l'isoletta che dobbiamo raggiungere con la barca! evviva! i gattini portarono con loro tutto lo corrente per affrontare la grande avventura biscotti e succo di frutta vedete il muschio? significa che abbiamo ormeggiato la barca nella parte nord dell'isola andiamo a esplorare l'isola! sono sicuro che ci piacerà! adesso possiamo tornare alla barca a mangiare qualcosina! a quanto pare nel legare la barca i gattini avevano sbagliato a fare lo speciale nodo del nonno oh che disastro! rimarremo bloccati su quest'isoletto per sempre! non c'è motivo di preoccuparsi! i vostri genitori verranno a salvarci prima che faccia buio! oh oh! credo però che stia per piovere! forza! costruiamo un rifugio! a me è venuta fame e a me è venuta sete ma tutte le scorte sono sulla barca non è un problema si può sempre bere l'acqua piovana mettendoci sotto la pioggia con la bocca aperta così ci bagneremo tutti io so come fare per berla i gattini fecero tesoro di tutti i consigli dati dal nonno e quando raggiunsero la riva trovarono ad attenderli una bella sorpresa mamma papà! evviva! come avete fatto a trovarci? semplice! il nonno mi ha mandato un messaggio dicendo di venirvi a prendere nella parte nord dell'isoletta oh avete le labbra viola avete preso freddo il freddo non c'entra è colpa dei mirtilli abbiamo vissuto un'incredibile e emozionante avventura il nonno ci ha insegnato tante cose e abbiamo fatto una merenda veramente squisita è stato un giorno fantastico! mi wow mi wow mi wow mi wow i dolci gattini si divertirono un mondo insieme al nonno le emozionanti avventure sono un vero spasso se sai come prenderti cura di te stesso febbre da shopping un giorno i gattini aiutarono la mamma e il papà a preparare il tè grazie per l'aiuto piccoli miei è tutto pronto non resta che mettere a bollire l'acqua per il tè oh cielo temo che il bollitore elettrico si sia rotto non posso dire di esserne sorpreso in fin dei conti ce l'abbiamo da tanto oh no non potremo più bere il tè e il limone che ci piace tanto non preoccupatevi gattini faremo subito un salto al negozio ci compreremo un bollitore nuovo di zecca così avremo un bellissimo bollitore fantastico mi wow mi wow mi wow mi wow al negozio il papà e i gattini non videro esposti solo bollitori ma tante altre cose oh guardate ci sono i pennarelli dovremmo comprarne una scatola ma cookie a casa ne hai già tanti di pennarelli io lo so ma non ho questi colori e va bene compriamoli oh i martelli mi sono appena ricordato che me ne serve uno nuovo guardate quanto sono forti quelle pinne oh che bei palloncini colorati i papà e i gattini si fecero prendere così tanto dagli acquisti che non si resero conto dell'orario oh cielo siamo qui da oltre un'ora la mamma si starà chiedendo che fine abbiamo fatto forza gattini paghiamo queste cose torniamo a casa siamo tornati dalle scatole che vedo pare vi siate divertiti a fare acquisti ci puoi scommettere abbiamo comprato tante cose che ci servivano nuovi pennarelli non li avevo di questi bei colori ti sbagli cookie hai già dei pennarelli di quei colori li hai usati per farci quel disegno ricordi oh sì hai ragione me ne ero completamente dimenticato guarda mamma abbiamo comprato anche una paperella di gomma vado a metterla nella vasca ma ne abbiamo già tante di paperelle di gomma e sentiamo un po cos'altro avete comprato? anche le palline per l'albero di natale ma se siamo in piena estate sono tutte colorate e piene di brillantini e poi abbiamo preso anche lo spray per fare la neve cosa c'è in quella scatola? un bel costume da mostro marino che potrai mettere a quelle feste in maschera che ti piacciono tante grazie ma preferirei qualcosa di più femminile come un costume da sirena di certo non da mostro marino questo è un filtro per piscine cosa ce ne facciamo? non abbiamo la piscina oh quel filtro ebbè per me così è stato un acquisto sconsiderato ma aspetta di vedere il mio nuovo martello l'ho comprato perché ho perso il vecchio no non l'hai perso l'ho visto proprio ieri in cantina dici davvero? evviva la mamma ha trovato il vecchio martello papà che facciamo con tutte queste cose che abbiamo comprato? portiamole in cantina le prenderemo quando ci serviranno ma poi non riusciremo neanche a metterci piede in cantina aiuto mi è venuta una bellissima idea dovremmo riportare ogni cosa al negozio brava chicca è proprio quello che faremo ma prima devo mettere qualcosa sotto i denti il mio stomaco vuoto comincia a brontolare allora sediamoci a prendere il tè al negozio ci andrete dopo però potrebbe esserci un piccolo problema non abbiamo comprato il bollitore elettrico oh no non preoccupatevi in cucina deve esserci una vecchia teiera d'acciaio possiamo usarla per scaldare l'acqua sul fornello come facevamo prima di avere il bollitore elettrico fantastico! mi wow mi wow mi wow mi wow alla fine la famiglia riuscì a prendere il tè e i gattini capirono che non sempre è bene comprare tutto quello che si desidera è meglio acquistare le cose di cui si ha davvero bisogno la conchiglia un giorno i gattini andarono a trovare il nonno che mostrò loro la sua speciale collezione di conchiglie ho raccolto conchiglie provenienti da tutte le parti del mondo sono stupende guardate queste due sembrano delle torri in miniatura sapete una cosa dovremmo costruire un meraviglioso castello di sabbia e decorarlo con questa bella conchiglia nonno ce la puoi prestare per un po' certamente cookie ma ricordatevi di metterla a posto quando avrete finito fantastico! mi wow mi wow mi wow mi wow i gattini costruirono un castello di sabbia intanto il nonno verniciava la sua barca mi raccomando non avvicinatevi all'acqua o vi bagnerete le zampine cookie forse è meglio che la conchiglia la tenga io tu potresti anche perderla non preoccupare ti assicuro che non la perderò andiamo a costruire il castello non E' il castello di sabbia E' il castello di sabbia più bello che abbia mai visto Non ci resta che aggiungere il tocco finale Cookie, dov'è la conchiglia del nonno? Oh, non la trovo più, mi sa che l'ho persa Oh no, è proprio quello che temevo sarebbe successo Oh, e adesso che cosa diciamo al nonno? Faceva parte della sua collezione Probabilmente mi è caduta dalla tasca Sarà qui, da qualche parte nella sabbia Venite a vedere cosa ho trovato Una principessa deve aver attraversato questo mare con la sua nave E dalla corona le sarà caduto questo gioiello Sì, Cookie, è molto carino Ma dobbiamo assolutamente trovare la conchiglia del nonno che hai perso Abbiamo già perlustrato tutta la spiaggia Forse è caduta in mare e l'hanno portata via le onde Dobbiamo cercare nell'acqua Non possiamo entrare in acqua Però credo che non ci siano problemi se restiamo sul bagnasciuga Guardate qui Questa deve essere una moneta caduta da una nave pirata Sì, carina, ma non ci serve per trovare la conchiglia E se Cookie l'avesse persa nel posto in cui abbiamo costruito il castello Sarebbe sepolta sotto il nostro capolavoro Ci abbiamo messo un sacco di tempo per costruirlo Non me la sento di distruggerlo È una pera d'arte Gattini, è un castello meraviglioso Perché dovreste distruggerlo? Non mi dispiace tanto, ma... Ecco, temo di aver perso la tua conchiglia Ma pensiamo che potrebbe essere sepolta sotto il castello Non preoccupatevi per la conchiglia A casa ne ho un sacco Mentre qui abbiamo un solo castello super fantastico Lasciatelo pure dov'è Avete costruito una cosa davvero meravigliosa, gattini miei Sì, però non abbiamo la decorazione da mettere in cima Mi è venuta una bellissima idea Troviamo qualcos'altro per decorare il castello Che cosa ne dite di usare il mio cappellino da marinaio? Cookie, abbiamo ritrovato la conchiglia del nonno E dov'è? È lì sulla tua testa, fratellino Ah, è vero! L'avevo messo sotto al cappello per non perderla E poi me l'ero dimenticato Cosa sono questi tesori? Li abbiamo trovati mentre cercavamo la tua conchiglia Sembra che voi tre giovani gattini Abbiate cominciato una vostra collezione di oggetti meravigliosi Saranno perfetti per decorare il vostro castello Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! I gattini decorarono il castello con la conchiglia Il sasso e la moneta E ci giocarono per il resto della giornata Il cuginetto Un giorno la mamma disse ai gattini che avrebbero avuto visiti Gattini, ho una bella sorpresa per voi Oggi verrà a trovarci mia sorella, zia Cannella E porterà suo figlio il piccolo Bagel che sarebbe il vostro cuginetto Conosceremo il nostro cuginetto! Fantastico! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Mi wow! Sono davvero curioso di vedere com'è il nostro cugino Bagel Di sicuro è gentile e ben educato Buongiorno, cugina! Il fiocco che porti in testa è molto grazioso Sono sicuro che gli piace leggere E io scommetto che è bravo a giocare a calcio Insieme a lui formeremo la squadra più forte di sempre O magari una band strepitosa Scuspitosa! Ciao! Sorellina, che piacere! Ciao, zia Cannella! Ciao, miei dolci nipotini! Ma guardate un po' quanto siete diventati grandi! È il portato Bagel! Vogliamo conoscerlo! Ma certo! Ecco il vostro cuginetto! È davvero lui, nostro cugino? Mi raccomando, tesoro della mamma, fai il bravo! Voi giocate con il vostro cuginetto e noi andiamo a preparare il tè I gattini non si aspettavano che Bagel fosse così piccolo Non sapevano che cosa fare Non sa nemmeno camminare Come facciamo a giocare con lui? E non sa dire nemmeno una parola Oh no! Fai piano, Bagel! Questa è la mia bambola preferita! Lo vedi? Questo è un pallone da calcio Se vuoi ci puoi giocare, va bene, Bagel? Mi sa che sei ancora piccolino per giocarci come si deve Guarda, Bagel, questo è il gioco più bello che esista Si chiama Scacchi! Oh no! Non li devi lanciare per aria! Non puoi giocare con le mie bambole! Né con le mie macchinine! Dovremmo trovare un modo per calmarlo! Non possiamo lasciarlo giocare con il mulino a vento È adatto a gattini molto più grandi di lui Se ci gioca, lo romperà di certo Ecco la soluzione! Mi è venuta una bellissima idea Dobbiamo trovare dei giocattoli adatti a lui Quando ero piccola piccola Mi piaceva questo sonaglino con il topo Guarda, Bagel, ci piace? I gattini tirarono fuori i giocattoli di quando erano piccoli Come il loro cuginetto Guarda, 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 Guarda è meraviglioso gattini avete fatto subito amicizia con il vostro cuginetto mi fa molto piacere vorrei dire che faremo in modo di venirvi a trovare più spesso fantastico! i gattini capirono che giocare con i micetti piccoli può essere divertente basta semplicemente ricordarsi come si era alla loro età sulla neve con papà un giorno d'inverno il papà ha deciso di portare i gattini sulle piste innevate per farli divertire sulle discese so già che ci divertiremo tantissimo a giocare sulla neve con papà io adoro la neve possiamo fare tutto quello che vogliamo fantastico! gattini solo due cose datemi sempre ascolto e ricordate che dobbiamo essere a casa per pranzo wow! c'erano così tante piste che non sapevano quale scegliere io voglio andare su quella pista laggiù invece io voglio andare su quella no, andiamo su quella là in alto sentite gattini possiamo restare solo qualche ora allora dobbiamo sbrigarci ovviamente il tempo vola quando ci si diverte in piedi gattini non si dorme sulla neve coraggio è arrivata l'ora di tornare a casa oh no ma non abbiamo avuto neanche modo di andare sulle piste più ripide va bene possiamo restare giusto il tempo di fare una pista per andare in cima alla pista più alta il papà e i gattini dovettero prendere uno speciale ascensore come siamo in alto che bello cookie metti la sciarpa al collo qua su c'è molto vento ma papà io sento troppo caldo e poi non c'è neanche un po' di vento non sarebbe successo se mi avessi dato ascolto ora dobbiamo recuperare la sciarpa avanti seguitemi ehi mi stavo chiedendo una cosa se finissi in quel mucchio di neve laggiù diventerai un'enorme palla di neve sarebbe troppo divertente invece a me piacerebbe sapere dove arriva questa discesa e vai! andiamo ricordate che non abbiamo molto tempo che bello è stato fantastico adesso dobbiamo prendere la sciarpa di cookie dall'albero non scotete l'albero vi cadrà addosso tutta la neve l'avevo detto che sarebbe successo però adesso dobbiamo tornare a casa va bene? che cosa c'è? i gattini chiesero di fare un'altra pista promettete che dopo questa discesa ce ne andremo? certo papà ma poi cominciò a cadere la neve chissà sotto quale mucchio di neve la nostra auto è tardi e dobbiamo andare quest'auto è verde quindi non è la nostra questa qui è blu non è la nostra questa è rossa venite penso di aver trovato la nostra auto grazie di avermi liberato l'auto da quella montagna di neve ci vediamo oh no sono sfinito ho tanto freddo e ho una fame da svenire anch'io budino ma è colpa nostra non saremmo in questa situazione se avessimo dato retta al papà fin dall'inizio mi fa piacere che l'abbiate capito ma ora basta lamentarvi dobbiamo scoprire qual è la nostra auto mi è venuta una bellissima idea con il telecomando sentiamo il bip brava chicca bella trovata perché non ci ho pensato fantastico mi wow mi wow mi wow forza gattini liberiamo l'auto dalla neve e torniamo a casa la mamma ci sta aspettando per pranzare dopo aver aiutato il papà i gattini rincasarono per pranzare con la mamma felici di essere a casa dopo una mattinata sulle piste innevate una notte nel bosco un giorno la mamma e il papà svegliarono i gattini molto presto è ora di svegliarsi dolci gattini andremo a fare campeggio in una riserva naturale stanotte dormiremo in tenda faremo campeggio sul serio e dormiremo in una vera tenda e potremmo anche accendere un fuoco da campo fantastico mi wow mi wow mi wow nella riserva c'erano posti adibiti al campeggio caspita qui non ci sono più posti liberi proviamo ad andare un po' più avanti a quanto pare anche qui al completo dopo aver girato la riserva per un'ora il papà non riuscì a trovare neanche un posto libero in cui fermarsi a campeggiare riusciremo a fermarci prima di sera sono stanchissimo a chi lo dici ho anche una fame da lupi invece io ho sete cercate di avere pazienza gattini andremo un po' più avanti e troveremo un bellissimo posto in cui fare campeggio gli alberi intorno sfrecciano così veloci beh adesso hanno smesso di sfrecciare resteremo bloccati qui per il resto della vita non perdetevi d'animo gattini miei vedrete che si sistemerà tutto evviva! mentre voi aiutate vostro padre a montare la tenda io vado a cercare la legna per accendere il fuoco oh per la miseria temo di aver dimenticato di prendere i picchetti ci servono per fissare la tenda al suolo se non possiamo montare la tenda ci toccherà dormire all'aperto al freddo e sulla terra dura e se verrà a piovere in questo caso andremo a dormire nell'auto non c'è posto così siamo stretti si ma in auto saremo il sicuro dagli attacchi degli spaventosi animali selvatici qui ci sono tante zanzare fastidiose no non voglio passare la notte in questo bosco ma vaffi anch'io per favore papà chiamo alla mamma vogliamo tornare a casa almeno là non ci sono zanzare così grandi le spaventose animali selvatici state tranquilli gattini siamo in una riserva naturale in questo bosco non ci sono animali spaventosi uno spaventoso animale selvatico oh che fatica visto il vostro spaventoso animale selvatico la mamma quanto sei spiritoso tesoro ho raccolto dei rami secchi per accendere il fuoco non è stato per niente facile ma ho continuato a cercarli finché non li ho trovati la mamma ci ha però offerto una soluzione per il nostro problema con la tenda mi è venuta una bellissima idea mettiamoci a montare la tenda così potremo trascorrere una bella notte nel bosco ben presto i gattini dimenticarono tutte le loro paure e passarono una piacevole serata all'aperto su gattini è ora di andare a dormire buonanotte mamma buonanotte tesoro buonanotte gattini spostatevi un po' qui dentro ci sono le zanzare e sono animali famelici sono anche belle grandi per fortuna ho portato lo spray contro gli spaventosi animali salvatici fantastico mi wow mi wow mi wow mi wow sistemata la tenda i gattini si misero ad aiutare i genitori e si divertirono un mondo a fare campeggio nel bosco imparare a volare un giorno il papà portò a caso un giocattolo telecomandato che volava che oggetto strano che cos'è? questo è un drone quadricottero è come un piccolo elicottero ma invece di avere un solo rotore ne ha quattro e si controlla con il telecomando come le macchine che bello posso giocare anch'io con il drone ci gioco prima io dammi il telecomando papà voglio provarlo anch'io mi dispiace deludervi dolci gattini ma questo è un giocattolo che possono usare solo i gatti adulti come il vostro papà non è per niente facile da comandare è meglio farlo volare fuori più tardi andremo in giardino e lo proveremo fantastico mi wow mi wow mi wow mi wow adesso devo finire un lavoro che ho cominciato potete restare qui a guardare il drone tutto il tempo che volete e mi raccomando non provate a farlo volare potete restare qui vedete I giocattoli non sono cose da grandi Sono fatti per i gattini Ma certo, figuriamoci se non siamo capaci di far volare questo drone senza l'aiuto di papà Noi siamo esperti di giocattoli Dovremmo riuscirci Andiamo al parco, lì potremo farlo volare Ciao amici, guardate un po' che cosa abbiamo Ma quello è un drone troppo forte Anche mio zione ha uno identico al vostro E voi sapete davvero farlo volare? Certamente, in fondo non è così difficile Atterra, Cucchi, atterra! Sì, ci sto provando Si è incastrato, non riusciremo a riportarlo a terra E adesso cosa diciamo a papà? C'è solo una cosa che possiamo fare Dobbiamo raccontargli tutta la verità Papino! Aha, siete pronti per la vostra prima lezione di volo? Bene, a me il telecomando! E ora portiamo fuori il drone per farlo volare Ci dispiace papà, ma noi l'abbiamo già portato fuori Pensavamo di riuscire a farlo volare da soli L'abbiamo fatto volare, ma non siamo riusciti a controllarlo Ed è finito per incastrarsi proprio nel nostro camino Ah? Il cammino del tetto di casa nostra? Oh, gattini, se vi ho detto di non far volare il drone da soli Avrò avuto i miei buoni motivi, no? Avreste potuto romperlo o ferire qualcuno Hai ragione, a questo non avevamo pensato Papà, ti prometto che non prenderà mai più una cosa senza avere il permesso Sono contento di sentirtelo dire A quanto pare stavolta è andato bene Il quadricottero non si è rotto Evviva! È il telecomando che è rotto, per questo non siamo riusciti a farlo volare No, Cookie, il telecomando funziona Far volare un drone come questo è un po' complicato Adesso capite perché vi ho detto che è un giocattolo per grandi? Bravo papà, tu sei un pilota eccezionale Non riusciremo mai a far volare il drone come fai tu Sì, che ci riusciremo quando diventeremo dei gatti grandi come papà Non serve aspettare tanto Dovete solo imparare e fare pratica Ma il papà deve essere sempre presente per insegnarvi e controllarvi Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow E così i gattini impararono che esistono dei giocattoli più complessi Che possono essere utilizzati solo con l'aiuto e la supervisione di un adulto No! No!